Ciao da Avsim, ripreso Sky Calciomercato l'originale, ritornano le notizie di Calciomercato, con Gianluca Di Marzio in studio cambia tutto, cambia tutto. Arrivano le notizie che poi Lancia Di Marzio e tutti gli altri a ruota seguono e vanno a ricopiare, praticamente perché di questo si tratta. Da questo punto di vista voglio subito dire che probabilmente in Italia abbiamo un solo giornalista, una sola vera redazione di Calciomercato che si rispetti, ma seria, ma veramente, a parte chi si occupa di singole squadre e quindi segue delle piste un po' ridotte, ma se parliamo un po' di tutte le squadre, se parliamo di Calciomercato in generale, è Calciomercato l'originale. Ho atteso con un po' di interesse appunto la ripresa di questa trasmissione per questa finestra di mercato invernale e ieri l'attesa spasmodica, soprattutto da parte dei tifosi dell'Inter, prima delle 23, messa in onda della trasmissione, era per Vidal all'Inter. C'era questa sensazione che Di Marzio si sarebbe seduto e avrebbe detto che Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell'Inter, contratto da eccetera eccetera con sottofondo musicale e diciamo finti fuochi d'artificio grafici che vengono in questi casi mostrati appunto nella trasmissione quando Di Marzio, e li ha fatto già tante volte, si siede lì e fa appunto un annuncio ufficiale praticamente. L'attesa era veramente in questo senso, anch'io mi aspettavo un po' disilluso, disincantato ormai questa cosa, che Vidal potesse essere annunciato un nuovo giocatore dell'Inter. Poi nel discorso Vidal, non entro adesso perché ne ho già parlato, cioè nel discorso Vidal che se ne va dal Barcellona e la Juve lo lascia andare all'Inter perché di questo pure possiamo parlare, magari ne parlo un attimo dopo, anche se vi ho già detto che Vidal non è imprescindibile per la Juventus in questo momento, pur essendo forte, fortissimo ancora, per una questione anagrafica dobbiamo anche guardare avanti al futuro, ma alla fine tutto si è ridotto a Ashley Young e la cosa ha fatto un po' ridere, ammettetelo, ammettiavolo, cioè eravamo un po' tutti a pensare, ecco Vidal, Vidal, sì per Vidal si sta andando avanti ma l'Inter ha preso, sta prendendo Ashley Young, cosa, cioè perché esattamente cosa c'entra adesso? No, tra l'altro parliamo di un giocatore che è stato sicuramente molto forte, giocatore di tutto rispetto, un terzino, un esterno, ma in realtà se andate a vedere in carriera ha ricoperto veramente tutti, tutti, tutti i ruoli, gli sono mancati soltanto l'attaccante, punta centrale e il portiere, poi li ha fatti veramente tutti e quindi già sbaglia chi, e qualcuno anche già in trasmissione ieri da Di Marzio lo ha detto secondo me in maniera imprecisa, considera Ashley Young soltanto un terzino, addirittura si faceva già un discorso ma può giocare nel 3-5-2 di Conte, sì, sì può giocare, può giocare nel 3-5-2 di Conte, non è un terzino da difesa 4 in assoluto, anzi dopo vi dico alcuni dati, però la cosa che colpisce innanzitutto è ennesimo colpa a parametro 0 di un giocatore che non ha prospettiva, ennesimo da parte di chi? Da parte dell'Inter? No, da parte di Marotta perché noi tifosi della Juventus Marotta lo conosciamo bene, lo sappiamo, lo sappiamo quali sono i colpi che va a fare, ne ha fatti tanti da noi, pensiamo per esempio a Lord Bentner, uno su tutti ma potremmo dirne anche altri, poi sì, ha preso Pirlo, ha preso Vidal, ha preso Pogba, lo sappiamo bene, ma infatti Marotta è stato luci e ombre, non è stato né tutto positivo né tutto negativo alla Juventus, tuttora io non butto tutto quello che ha fatto Marotta alla Juventus, ci sono delle cose che butto assolutamente perché non mi hanno mai convinto, anzi sono stato assolutamente contrario e contrariato rispetto ad alcune operazioni che ha fatto, però ha fatto anche delle operazioni fenomenali, il problema è che quando Marotta era la Juventus a fare operazioni buone, operazioni cattive, era un mafioso, perché questo i tifosi dell'Inter molti probabilmente avranno ormai fatto mea culpa e si saranno un po' rivisitato le loro stesse opinioni, però di fatto c'è un'incorrenza di fondo perché Marotta è stato veramente insultato, veramente bistrattato clamorosamente dagli anti-juventini, ma soprattutto dai tifosi dell'Inter quando era la Juventus e faceva grandi operazioni e la Juventus vinceva e adesso è diventato il mago del mercato. No, e ci vuole anche un po' di equilibrio, insomma, ma d'altra parte lo stesso discorso farrebbe per Conte, adesso sento che Conte ha vinto gli scudetti con Estigarribia, con De Ceglie, sì ma voi dove eravate? Eravate a dire che Conte era uno scommettitore e che lo insultavate anche quando è andato a fare il CT della Nazionale perché era ex Juventino, non prendiamoci in giro, ma questo è per dire in generale, ma voglio dire l'incoerenza appartiene un po' a tutti, a tutte le tifoserie, ci mancherebbe, non è soltanto quella interista. Nello specifico però parliamo di Ashley Young che è nato il 9 luglio 85, quindi adesso che andrà in scadenza a giugno 2020 con il Manchester United, di cui è capitano, con cui ha giocato tantissime partite, quasi una bandiera, ha 34 anni. Quando si aggregerà all'Inter, perché praticamente l'operazione è conclusa, ne avrà 35, cioè farà 35 anni a pochi giorni dall'inizio del ritiro, comunque dall'inizio ufficiale della stagione 2020-2021, quindi vai a prendere un 35 anni perché l'operazione è chiusa, perché appunto Ashley Young va in scadenza e come vedete è il capitano, è una bandiera, ma il Manchester United lo fa andare via, cioè questo dico anche ai tifosi della Juventus, vedete la riconoscenza? Uno come Young meriterebbe riconoscenza infinita, dovrebbero rinnovargli il contratto, cosa saranno mai 34-35 anni? Sono pochissimi e invece lo fanno andare via, non si fanno scrupoli perché non serve più, non serve più allora invece di tenerlo a svilire in panchina, a fermentare in panchina come il vino, lo lasciano andare via ed è una cosa secondo me giusta di prospettiva, non di prospettiva, d'altra parte l'operazione dell'Inter. Può essere un giocatore ancora forte, ancora valido, ha ottime caratteristiche in generale, di grandissima esperienza, ma resta pur sempre un 35enne. Puoi affidarti ad un 35enne per il futuro perché poi in mezzo c'è anche il caso Godin, perché Godin in questo momento sembra essere stato superato da bastoni, non sta giocando Godin, ne parlano anche un po' i giornali accostandolo a De Ligt, con la differenza che De Ligt è in una fase di ambientamento, e a 20 anni De Ligt è praticamente, Godin sembrerebbe, potrebbe essere un giocatore finito. L'Inter sta andando a prendere un altro giocatore finito? Questa è la prima domanda che vi faccio. L'altra domanda che mi faccio, l'altro quesito che mi pongo è perché la Serie A continua ad essere appetibile per i grandi calciatori solo quando stanno finendo la carriera? Potrei anche metterci Cristiano Ronaldo, sebbene un discorso diverso perché Ronaldo non ha scelto tanto la Serie A. Ha scelto la Serie A ma ha scelto la Juventus e in generale ha scelto di lasciare il Real Madrid in un momento in cui a lui conveniva lasciare il Real Madrid, ma non per un fatto d'età. Quindi è un po' un discorso a parte, anche se comunque tra Real Madrid e magari una destinazione italiana che potesse essere all'epoca la Juventus, 9-10 anni fa Ronaldo ha scelto appunto il Real Madrid, ha scelto la Liga Spagnola e non la Serie A e va bene. C'è Ibrahimović, c'è lo stesso Godin, ma ci sono anche tanti altri esempi che possiamo fare, anche di altre squadre. E con Ashley Young si va a proseguire questa lunga catena di giocatori importanti che sono diventati forti all'estero e che poi arrivano in Italia alla fine praticamente della carriera. Carriera, attualmente tra l'altro Young ha una valutazione residua di 4 milioni per dire che comunque è un giocatore ritenuto ancora valido. È attualmente terzino-sinistro, piede preferito destro ma in realtà è ambidestro. Firmerà un contratto da 18 mesi a partire da giugno e arriva a parametro zero. In questa stagione con lo United di cui, ripeto, è capitano, ha collezionato 18 presenze con un gol e un assist. Quindi non è proprio titolarissimo ma gioca, gioca abbastanza. È stato titolare al Mondiale 2018 con la maglia dell'Inghilterra, quindi è un giocatore, ripeto, ancora valido, ma 2018, siamo già nel 2020, andiamo per questo acquisto verso il 2021, quindi il tempo è passato. Però è una questione di duttilità che mi ha colpito molto perché andavo a vedere che effettivamente ha ricoperto tutti i ruoli dal difensore centrale alla seconda punta, passando per il trequartista, centrocampista centrale, ovviamente terzino da entrambi i lati, esterno di centrocampo da entrambi i lati e ala da entrambe le parti. Ed infatti vi dico questo, che lui è più centrocampista che terzino per caratteristiche Ashley Young perché ha fatto 163 presenze in carriera, fonte Transfermarkt, tra centrocampista sinistro e destro e ala sinistra e alla destra e 109 tra terzino destro e terzino sinistro. E nello specifico 99 presenze da centrocampista sinistro, 55 presenze da terzino destro e 54 da terzino sinistro. Quindi se lo consideriamo un esterno sinistro è un centrocampista. E allora nel 3-5-2 di Conte va benissimo. In quest'ottica è un acquisto funzionale al prossimo futuro dell'Inter, cioè alla permanenza di Conte sulla panchina nerazzurra, al mantenimento di questo 3-5-2 e non solo per la prossima stagione ma anche quella successiva perché vi dicevo è un contratto da 18 mesi. Tra l'altro Young che complessivamente 39 presenze, 7 gol e 10 assist in nazionale e fin qui in carriera 559 presenze, 77 gol e 112 assist. Insomma, la vita e le opere di Ashley Young non si discutono, però parliamo sempre di un giocatore a fine carriera. Quindi che voto possiamo dare a quest'operazione da parte dell'Inter? Un voto anche positivo, ripeto, perché funzionale al progetto, ma cosa sposti sul mercato? L'Inter ha preso Young. È più una cosa che magari viene percepita come importante dai tifosi dello United perché va via una bandiera dai tifosi del calcio inglese, perché va via una bandiera, un simbolo del calcio inglese con tante presenze, ma per il resto è nient'altro che l'operazione di un giocatore è quasi finito che va a svernare praticamente. E in mezzo c'è Vidal, perché, ripeto, anche su Vidal Di Marzio si è pronunciato non avendo detto nulla di particolare, nel senso che non ci sono stati dei grossi risvolti, però una cosa importante l'ha detta, e cioè che praticamente Vidal avrebbe riferito se lascio il Barcellona vengo all'Inter, vado all'Inter. Con Felicevic il suo agente che è in Italia, quindi si sta trattando, e comunque il giocatore vuole andarsene anche se il Barcellona sta tenendo duro, non vuole lasciarlo partire. Il Barcellona non vuole assolutamente lasciarlo partire, considerando adesso il Barcellona sta giocando la Supercoppa Spagnola, deve giocare la Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita, considerando anche che fin qui Vidal comunque ha fatto 20 presenze, 6 gol e 1 assist, 811 minuti, quindi entra quasi sempre dalla panchina. Però è risultato decisivo in molte partite, ed è ancora un giocatore molto forte, lo abbiamo ammirato più e più volte. Quindi Vidal non si discute, attenzione, Vidal non si discute, se non per l'età anche lui, perché è 87, 22 maggio, quindi sul fine di questa stagione andrà a compiere i suoi 33 anni, che comunque non sono i 34-35 di Jung, ma non sono neanche 28-30, però bisogna vedere come andrà a finire questa storia, perché non è assolutamente detto che Vidal andrà all'Inter, nel senso potrebbe il Barcellona fare questa resistenza, e Vidal non c'è il discorso della scadenza di contratto, o va adesso a gennaio, oppure se ne dovrà riparlare a giugno, ma ripartendo da capo, con altre prospettive, con altri parametri. Il Barcellona lo vuole tenere perché per il momento evidentemente gli serve, o forse non ha trovato nell'Inter il giusto partner di una trattativa per la quale i Blaugrana vorrebbero evidentemente spuntare qualcosa di più dal punto di vista economico. E questo potrebbe essere il nodo importante, vi ricordo che Vidal ha fatto causa al Barcellona per dei bonus, secondo lui, non pagati, ma in realtà è stato fondamentalmente un pretesto per provare a liberarsi dalla squadra, per provare a liberarsi dalla società, e quindi fare la voce grossa, avere in qualche maniera un'arma da utilizzare, e questi sono gli aspetti, in questo momento siamo arrivati a questo punto. Poi il discorso Juve, io ho letto molti commenti da parte dei Juventini, è paratici sbagli a lasciare Vidal all'Inter, allora intanto non è che uno lascia un giocatore ad altri, che sia l'Inter o meno, perché io ritengo che non dobbiamo assolutamente guardare il mercato dell'Inter come tifosi della Juventus, cioè l'Inter faccia il suo mercato, ma la Juve deve pensare a fare il suo mercato, e quindi che l'Inter punti Vidal a noi non deve interessare nulla. Non è il discorso lasciamo Vidal all'Inter, ci serve Vidal? Ha senso andare a spendere dei soldi e un ingaggio importante per Vidal? Ne abbiamo strettamente bisogno? Oppure dovremmo puntare ad un altro calciatore anche più forte e sicuramente più giovane di Vidal, più forte magari in prospettiva? Questa è la mia domanda, io rispondo che è più la seconda, cioè Vidal non è imprescindibile, se proprio non riesci a prendere nessun altro, oppure se sei dell'idea di non dover comprare nessuno, allora potresti pensare a Vidal. D'altra parte va detto, e questo è l'ombra che viene gettata da questa operazione dell'Inter, Eriksen sfuma, perché se l'Inter prende Vidal, non prende Eriksen. Soprattutto non lo prende a gennaio, perché Vidal sta per prenderlo a gennaio, l'Inter, e lo stesso discorso vale per Eriksen, perché Eriksen a giugno c'è la fila, a gennaio un po' meno, perché il Tottenham vuole venderlo per guadagnarci qualcosa. Però non tutte le squadre sono disposte a spendere adesso dei soldi per un giocatore magari col quale hanno già una bozza d'accordo per giugno, lo prenderebbero a zero. È chiaro, magari ci sono squadre alle quali Eriksen adesso non serve strettamente, ma può servire per il futuro, e allora non puntano a prenderlo a gennaio. Quindi o l'Inter riesce, o salta Vidal, e dopo di che l'Inter deve riuscire a pareggiare la richiesta del Tottenham, oppure Eriksen non andrà all'Inter. Questo chiaramente è un out-out, cioè non ci sono, è un bivio, non possono prendere entrambi i giocatori. Non tanto per un discorso economico, perché l'Inter economicamente sta molto bene, ma proprio per un discorso anche di utilizzo e di prospettiva. Appena preso Sensi e Barella, prendi Eriksen e Vidal, non è che puoi mettere quattro centrocampisti centrali, insomma. Detto questo, il discorso anche Pogba, perché c'è qualche tifoso interista che si sta esaltando dicendo abbiamo preso Sanchez, abbiamo preso Lukaku, adesso prendiamo Ashley Young, è tutto per avvicinarsi, arrivare a prendere Pogba. Non lo so, su questo sinceramente non mi pronuncio perché mi sembra una frase assolutamente illogica, però vedremo, perché il calciomercato sa anche essere illogico alle volte. Vi ho dato molti spunti? Forse sì, non abbastanza, avrei potuto dire qualcos'altro, non lo so. Comunque mi fermo, grazie in ogni caso per la vostra attenzione, ditemi nei commenti quello che pensate di Ashley Young all'Inter, Vidal, Eriksen, la Juventus e quant'altro. Like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!